A Taormina, nel Palazzo Duchi di Santo Stefano, è stata presentata la rassegna Mitos, Opera, Festival, Agrigento, Catania e Taormina per le vie del mito. Sono intervenuti l'assessore regionale al turismo Sandro Pappalardo, il presidente del Parco della Valle dei Templi Bernardo Campo, il sovrintendente agli spettacoli Gianfranco Pappalardo Fiumara e il direttore artistico Nino Strano insieme al sindaco Mario Bolognari. Ascoltiamo dunque l'assessore Pappalardo e poi il direttore artistico Nino Strano. Sicuramente stiamo puntando tantissimo alla destazionalizzazione, è veramente improponibile che i nostri alberghi anche qui a Taormina, oggi ci troviamo a Taormina, chiudano il 31 di ottobre, quindi grossi progetti di destazionalizzazione e abbiamo pensato a questo bando che va a offrire un bellissimo cartellone di grandi eventi in tutta la regione siciliana, eventi che permetteranno a delle bellissime compagnie di fornire grandi spettacoli all'interno dei nostri teatri che sono veramente delle perle che la regione siciliana può vantare. Mitos Opera Festival per le vie del mito avrà anche alcune tappe ad Agrigento, precisamente Agrigento sarà anche la tappa d'inizio, diversi gli eventi. Sì, Agrigento sarà una di queste tappe d'inizio, faremo degli eventi al Palacongressi. Noi siamo stati ben felici di accettare la proposta fatta dagli organizzatori del Mitopera Festival perché per noi il Palacongressi è una struttura di notevole interesse che vogliamo valorizzare. Abbiamo speso delle risorse ingenti che derivano anche dallo sbigliettamento delle somme del parco, le abbiamo investite lì e vogliamo che il Palacongressi sia quanto più possibile messo alla fruizione del pubblico. Questo è uno dei primi interventi, saranno fatti anche altri eventi e natalizi e questo ci conforta perché significa che abbiamo operato bene, lo abbiamo rimesso in sesto e siamo riusciti a metterlo in produzione. Agrigento, Catania e Taormina, le città protagoniste dell'evento, con degli spettacoli variegati, quali? Sono diversi spettacoli in tre luoghi simbolo di una Sicilia antica ma che si proietta nel futuro. che assieme all'assessore Alessandro Pappalardo, che avete già sentito, che ci ha dato il piacere di esserci vicini in questa avventura, come è stato vicino ad altre tantissime associazioni che hanno partecipato a un bando promosso dalla regione siciliana. Una regione siciliana che, non dimentichiamo, sta lanciando forse per la prima volta, anzi sicuramente per la prima volta un programma triennale, così da poter essere un bacino in prospettiva per il tour o per etro, per essere venduta. Ritornando al concetto di prima, Agrigento, Catania e Taormina, che assieme a Siracusa, Palazzola Crede, Cefalusa e Gesta, saranno protagoniste, il vero Sandro, delle stagioni antiche, che lo sono state col circuito del mito, lo saranno con l'assessore Pappalardo per il futuro. Ad Agrigento ci saranno gli artisti di strada, ma ci sarà soprattutto un concerto e uno spettacolo con il siciliano, che è nato cabarettista, ma è diventato un uomo di peso culturalmente, che è Nino Frassica, e poi ci sarà un'esibizione nelle strade di Taormina e di Catania, a Piazza Università, di questi artisti di straga, che io ho ammirato in Francia, sono dei ragazzi eccezionalmente bravi, e poi ci saranno le serate finali con concerti, di cui uno diretto dal maestro Alberto Veronesi, che è una grande firma nell'opera lirica, nell'opera classica e nella musica classica nazionale ed internazionale, lui è una firma al Metropolitan di New York, si è spesso esibito, e dirigerà quindi un concerto al Palacongressi di Agrigento. Sfortunatamente ad Agrigento non siamo riusciti, per motivi anche di sicurezza, ad avere la possibilità, anche per il tempo, la rigidità delle temperature, ad avere il Tempio di Giunone ed altro, come avremmo preferito l'assessore Pappalardo ed io, perché questo è quello che dobbiamo vendere, le nostre bellezze.